Abbiamo ufficializzato questa sera il programma di Legnano Futura e anche il candidato sindaco. Stefano Quaglia, candidato sindaco, puoi dirci qualcosa in merito a questa tua candidatura? Certo, io ho accettato questa candidatura che mi è stata chiesta dai membri del Comitato Civico Legnano Futura che adesso è diventata una lista civica. Mi metto a loro servizio e soprattutto a servizio della città di Legnano. Voglio mettere la mia esperienza maturata in 15 anni di Consiglio Comunale a servizio di tutti i cittadini. Ecco, mentre Stefania, volevo chiederti a te qualcosa sul commercio. Nel vostro programma si parla molto di commercio. Quali sono anche le parole chiave? Che cosa volete fare per incentivarlo? Sicuramente c'è tanto da fare. Ascoltare le associazioni di categoria, avere un peso in Consiglio Comunale, incentivare il piccolo commercio e il servizio al dettaglio, creare magari delle nuove start-up o dei temporari shop, valorizzare le periferie ma non dimenticare il centro di Legnano che è il nostro biglietto da visita. Ecco, mentre per quanto riguarda i giovani, chiedo a te appunto, la coerenza, parlavi di coerenza. Che cosa significa per un giovane la coerenza? Beh, credo che per un giovane la coerenza significhi avere degli ideali, degli obiettivi e portarli avanti. Anche perché sinceramente credo che i giovani siano un po' scontenti e delusi da tutti i politici che la maggior parte delle volte fanno grandi promesse che però non riescono mai a mantenere e non ascoltano mai soprattutto i giovani che non sono ascoltati abbastanza, credo. Stefano, in questo momento siete gli unici ad essere usciti ufficialmente. Che cosa vuoi dire agli altri di sé? Come vi ponete nei loro confronti? Guarda, noi siamo aperti a tutti, lo voglio dire con molta chiarezza, ad altri movimenti civici, ad altre liste civiche, così come anche alle forze politiche tradizionali, chiamiamole così, i partiti. Che siano di centro, di sinistra, di destra, poco ci interessa. Chi vuole condividere il nostro programma, chi vuole lavorare con noi nell'interesse della città, di Legnano, è il benvenuto e noi siamo pronti a essere al loro fianco. Unico requisito che poniamo è che ci sia il cambiamento, noi chiediamo cambiamento. E Berti non era d'accordo con voi in questo? Ma con Berti siamo in ottimi rapporti, lo dico molto chiaramente, non c'è stata una rottura di amicizia, lo dico con chiarezza. Ci sono stati dei punti di vista diversi, anche quando è stato scritto il programma, ma lui ha preferito un'altra strada. Ma ripeto, siamo in ottimi rapporti. Grazie. Grazie a te. Grazie.